Comacici in mezzo a cercare Palasio, la torre per Richi Alvarez, in area di rigore sta arrivando cambiasso, calcia Alvarez e porta l'Inter in vantaggio, Richi Maraviglia dopo 16 minuti avanti la spara di Walter Mazzarri Maxi Morales prova a lavorare il pallone in mezzo a due, tecnica in velocità ma palla persa Alvarez la perde a sua volta, dando la roba all'altro numero 11, Maxi Morales a costo per Dennis Palla dentro, è 1-1, anticipo su Samuel e German Dennis la mette in rete il pareggio dell'Atalanta al minuto 25, 1-1